welcome back da max black questa è la mia faccia molti di voi me l'hanno chiesto di fare comunque dei vlog dove parlo di me dove parlo di quello che mi piace dove presento la persona che sono eccomi qua io a me piace esaudire quello che mi chiedete comunque nei commenti e quello che comunque i miei scritti mi chiedono quindi senza raggiungere delle tappe tipo ogni 10.000 iscritti vi faccio sapere qualcosa queste cose a me non mi piacciono quindi mi presento subito anche se gli iscritti sono in crescita e quindi ne approfitto visto che il canale sta cominciando ad andare veramente bene per presentarmi eccomi qua sono max black sono studente universitario tra poco mi laureerò in scienze naturali lavoro presso un'agenzia per adesso di viaggi ma ho lavorato in passato nei videogiochi a gamestop ho lavorato da media world quindi ho fatto tanti lavori che mi hanno permesso di conoscere il mondo dell'elettronica comunque dei videogiochi a parte questo da sempre è stata la mia passione ai videogiochi e ho deciso di questa passione di farla diventare una passione un lavoro e condividerla con voi nei video quindi è per questo che porto dei gameplay i miei sport preferiti sono calcio e basket assolutamente soprattutto il resto per me non esiste quindi per questo porto i gameplay riguardanti questi due sport sicuramente che sono i più apprezzati sicuramente dal grande pubblico ma da me in particolare quindi adoro queste le star del basket le star dell'nba le star del calcio quindi vi porterò sempre dei video e dei gameplay su queste cose mi raccomando giovedì uscirà la demo di fifa 20 questa è un'altra cosa che vi voglio dire perché quando porto un gameplay e una demo è sempre che vi dico la verità quello che ne penso difetti pregi tutto quello che c'è da dire lo dico liberamente senza nessuno che mi paga per farvi vedere i video o comunque per farvi sapere notizie e informazioni false quindi quello che vi porto io è la verità quindi commentate sotto se volete sapere qualche informazione su qualcosa qualche altra domanda su di me beh poi su di me che cosa c'è da dire di altro posso dirvi quali sono i miei generi che cosa faccio durante il giorno durante il giorno lavoro playstation youtube serie televisive sicuramente questi sono i miei passatempi adoro le serie televisive adoro netflix beato e grazie a chi ha inventato netflix che mi dà sempre una mano mi fa vedere sempre qualcosa però adesso come serie seguo sicuramente the android the walking dead tra poco ricomincerà super natural e queste qui per adesso sono le mie serie che seguo più in assoluto quelle che ho seguito sono state sicuramente breaking bad è una delle serie più belle e mi raccomando andatevela a recuperare su netflix non l'avete vista perché è stata una delle serie più belle che ci sono e che mi hanno segnato nella vita quindi per me sarà sempre importante portare comunque ad adesso in poi questi blog perché perché non voglio togliere spazio ai gameplay quindi una volta settimana prenderò questo spazio che sarà di 10 11 minuti così dove parlerò di cose che vanno oltre i gameplay videogiochi quindi parleremo di film serie tv se succederà qualche evento sportivo figo se ci sarà qualche cosa informativa da darvi ecco per esempio ho fatto cominciato a mettere dei video informativi facendovi vedere dei trailer di alcuni giochi che ho visto che sono al game a tokyo a gamescom che vedrò al tokyo game show e quindi ne parleremo con voi se a voi veramente questi giochi vi hanno colpito o vi hanno stupito quindi sul canale vi darò anche queste informazioni guarderò ore e ore di diretta solo per voi per farvi poi un riassunto dei migliori giochi usciti in queste ferie in queste serie quindi sarà comunque questo spazio che mi sono preso sul canale sarà un'evoluzione del canale che non toglierà spazio alle altre serie quindi se voi avete comunque voglia di vedere qualche serie di vedere qualche altro videogioco scrivetemelo sotto nei commenti o comunque sia se avete voglia di farmi qualche domanda riguardante la mia persona e cosa scrivetelo sempre nei commenti ci sarà questo appuntamento settimanale che ci farà conoscere di più ci farà apprezzare scusate l'imbarazzo della prima il primo blog che ho fatto sul canale ma è normale è più facile parlare sapendo che nessuno ti vede sente solo la voce altro metterci la faccia è una cosa più difficile quindi vi ringrazio a voi per la visione di questo di questo primo blog dove mi presento dove ho fatto vedere inizialmente soltanto la mia faccia ditemi se vi è piaciuta se siete delusi oppure no ditemi sotto nei commenti che ne pensate domande per il prossimo blog e vedremo cosa parleremo la prossima settimana sicuramente arriveranno i video di fifa arriverà code soprattutto vorrei farci anche un blog su code visto che ho giocato a tutti i code possibili e immaginabili quindi io vi saluto e vi ringrazio un grande abbraccio da max black